Siamo tornati qua Ah ma nella demo il test tornante non era a Monte Carlo Siamo tornati con il test di giovane pilota qui insomma su F1 2012 Ah ma infatti non è Monte Carlo è Abu Dhabi Vabbè vi ho tolto il video introduttivo perché tanto era noioso C'è il video introduttivo scusate la... come si chiama? Ah No 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 aspetta 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 Perché è questa cosa che se io faccio sinistra mentre lui gira mi sposta la visuale Spero che non lo faccia Sono andato un po' lungo No Aiuto Aiuto Se non mi sposta la visuale è meglio cioè E celeriamo oltre 297 What is the problem Ho mancato il punto Mannaggia non è per un cacchio facile Ho capito Ho capito poi Arrivare Oltre 297 L'hai già detto Corri Oh che è che è che è che Ah è vero c'era l'instant replay E' scoppiata la gomma Eh va bene Oh oh qua è... ah perché è vero è tipo scar cioè puoi tornare indietro Grande il trofeo Bella Però cos'è che non ho fatto? Cioè adesso mi dirà fallito perché non ho preso una tacchettina ma non so per che cosa ma va bene Ah completato 5 su 6 Boh Qualcosa non l'ho fatto vabbè Cos'è? Cosa devo fare? Finito cosa? Finito cosa? Parla Ah due curve Ah devo fare due curve Ah Va bene Va bene Va bene Sì No senti non mi devi guardare a destra a sinistra Se no un macello qua A parte il fatto che li ho mancati tutti adesso mi dirà fallito Ragazzi ci vuole un sacco di concentrazione Se non parlo è perché serve una concentrazione Mica da ridere Eh provaci di nuovo vai a ammazzarti Eh lo so l'ho capito No non mi dire che mi rifai il video eh Dai 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 Che l'altest te lo faceva fare con la Mercedes Io invece lo voglio fare Sì sì dai Invece qua con la Ferrari Io devo dare il meglio di me Certo che col cambio automatico Cioè col cambio manuale Non è per niente facile Sì E dai Sono contentissimo della modalità carburante standard Sì Va bene Bravo No Ho mancato l'apice No senti Se adesso non togli la possibilità di guardare a destra e a sinistra Devo spostare l'acceleratore e il freno sui Sui grilletti Perché se no è un degenero Dai Ah ho dimenticato Ho fatto la settima Uai là Ce l'ho fatta Buona Medaglia d'argento No ma sentite una cosa Rimettiamolo sui grilletti Perché Sto scemo mi fa guardare a destra e a sinistra Ah no che è sterza a destra a destra Mentre Ma cosa devo fare Accelera questo Sì Cioè le freccette Va bene E questo Il retrovisore E questo Cosa devo fare Cosa devo fare Modifica impostazione E basta Va bene E ora Ma cosa Uno più comandi Non sono stati assegnati Ah non ho assegnato i comandi Quale Cosa Cos'è che vuoi Ah ce n'è altri Ah vedi 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 Ah Allora aspettate 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 E così non si capiva Sterza Va bene Allora Accelera In su Frena In giù Eeeh Ora Questo Me lo rimetti Con Perfetto Retrovisore Indietro E no E no E giusto No Che idiota Frena in giù Retrovisore Eeeh Tondo Stato vettura Quadrato A sto punto Guarda a sinistra Ma si Tanto non devo guardare mai A sinistra E no Ma il problema Sussiste Boh Ci proviamo Guarda qua No No Profilo Comandi Preimpostazione 1 Fa vedere Accelera Frena Ta 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 Guarda quanti ce n'era Mannaggia i fiori Sinistra Destra Il Kers L1 E l'ala Il triangolo Eh vabbè Ma vai a morire Tutto sto casino Poi devo guidare Coi tuoi Ah Sta marea Di tasti Che ci sono Prosegui Eh Grande Grande Alonso Grande Quanto ne sa Dai Perfetto Eh Eh va bene Frega niente No no Video Kers E DRS Li saltiamo Dobbiamo vederlo Guarda il video Eh vabbè Guardiamo il video Dai ragazzi Gustatevi sto video Che vi devo dire Anzi Aspetta Sto zitto La detta La boiata Grazie a tutti Ok dopo la boiata che si può guadagnare 7 secondi a giro con il Kers Che sicuramente intendeva 7 decimi perché 7 secondi al giro ragazzi è impossibile Guadagnarli per 80 cavalli, proseguiamo il nostro test perché 7 secondi al giro non li ha mai guadagnati nessuno Ma comunque andiamo, buongiorno si bella, grande, devo dire grade, iede Allora salvataggio automatico vai Proseguiamo il nostro test poi ci buttiamo in un campionato folle totale io ve lo dico Test per giovani piloti giorno 2, grande Che bello è il mio casco, è ancora buongiorno Andiamo 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 dai, pronti, prontissimi, vai 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 vai, prontissimi Oggi usiamo il Kers eh, o il DRS Oddio questo non c'era nel demo Quindi Guarda Guarda l'ala, tanta roba raga Vai 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 vai, pronti Vai beh Ehi chi, hai voglia Che cacchio, com'è che si cambia la marcia, mannaggia i fiori Ma porco, mannaggia, almeno questo posso metterlo con RU Ah no, forse è meglio X Ma porco, vedi che sono scemo Ricomincia test, sì Ma porco, lo scemo che sono Dai No, non tutto eh Oh Povera scema Poverina Quanto sono un genio Grande, grande KB Devo risistemare la visuale Cioè, sto facendo casino con i tasti Lasciate perdere, però Adesso andiamo avanti Eh, l'abbiamo già fatto Tutto a posto Vai 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 Tutto a posto, grande Allora aspetta eh Cosa? Oh Arca, ecco cosa intendeva per chicane Sì, confermo Se però mi ridai le informazioni base No dai zio, no no zio Zio, però mi devi dare Eccola qua, questa Oh, l'ho toccata Mi sa che si è arrabbiato Perché l'ho toccata Eh, ma non ho ancora capito bene Il punto di frenata Eh, dai Dai, dai Non ce la meniamo troppo Vai Così il care si è aperto Cioè, il DRS è aperto, vero? Eh, zio Non è facile Figa, ci sono troppe cose qua Devo cambiare Devo cambiare Marcia Ma no, zio è un disastro Devo cambiare marcia Attivare il care Il DRS Apre il care Eh, allora sei scemo Allora sei scemo Qua non ce la farò mai A superare il test Se tutti sti scemi Mi vengono addosso Mannaggia i fiori Dai Adesso mi metto in scia Non ce la farò mai Vai che sono davanti A parte le cambio marcia che ancora non mi viene Però per il resto va bene Oh Grande Grande KB Oh solo un assaggio Pure il trofeo ho preso perché sono un pro Vabbè Direi che dato che questo video ormai lo sto facendo di mezz'ora A sto punto Possiamo anche tirare lungo Quanto manca? Eh no test tempo No questi ve li faccio vedere Allora la prossimissima volta Io vi ringrazio Questo gioco è epico mi sta già esaltando troppo E vi saluto e ci vediamo con i prossimi video Bella ragazzi